Ma Etienne, insomma mi devo complimentare con lui, è stato fantastico. Voglio dire, ha organizzato tutto. Biglietti, tabelle di marcia, il viaggio al completo. Da Bangkok a Suratani. Suratani, Natong. Natong, Choweng. 500 miglia in 24 ore. Per meno di 400 baht. Credetemi, è un vero affare. Eravamo spinti dalla forza del mistero, ma per arrivarci, dovevamo seguire i classici itinerari turistici. Quanto ho fatto? Grazie.